Bentornati appassionati di Fobia Land e benvenuti nuovi spettatori. Siamo qui per dare il via alla terza, forse ultima, stagione della storia Bivi di Modus Operandi, scritta da Sara e narrata da me, Elena. La scorsa estate ci siamo lasciati con l'incontro nel parco Divertimenti di Creepyland tra i nostri cinque protagonisti e alcune creature delle creepypasta che credevano ostili e che invece erano giunti al loro soccorso. C'è sicuramente un motivo dietro tutto ciò. È possibile sia soltanto la pura bontà d'animo? Lo scopriremo oggi con il capitolo 1 SCP. Hazel non si era mai considerata nevrotica. Erano altri gli appellativi che si dava e udiva dare dai suoi conoscenti. L'empatica Hazel, l'animalista Hazel. Hazel va a salvare le balene e non rompere le palle. Eppure in quell'infinita giornata di giugno Hazel non poteva che definirsi isterica. Daniel probabilmente le avrebbe spiegato la differenza tra nevrosi e isteria, sottolineando quanto la sua condizione attuale fosse dovuta allo shock e a una certa dose di stress e al ricordo di minuscole zampette che correvano sul suo viso, entrandole nella bocca e nelle orecchie. Ma sarebbe stato un altro Daniel. Il simpatico Daniel. Il secchione Daniel. Il tranquillo Daniel. E non il ragazzo che adesso, come lei, stava fissando un mostro senza faccia, poggiare la loro amica Blanca accanto a un fuoco fatto di rovi e ramoscelli secchi e alimentato da un'anziana donna in toga porpora che insisteva a rivolgersi loro in latino. Lasciamola dormire, ne ha bisogno. Hazel trasse un profondo respiro e si disse che ormai il peggio era passato. Non per sempre, ma almeno per l'ora seguente. Erano al sicuro, in un edificio dismesso, un imponente grattacielo che non avrebbe dovuto trovarsi sotto tetra. Ma dopotutto chi era lei per farsi domande sullo strano luogo in cui erano finiti invece di andare al solito rassicurante cinema come in un weekend qualunque. Inspirò ed espirò ancora. Cerca di ricordare, Hazel, non perdere la testa. Erano arrivati nell'edificio a piedi, sì. Avevano seguito l'uomo dei sogni e il gigante che portava Blanca svenuta tra le sue braccia. Poi il gigante l'aveva lasciata a Slenderman. Niente domande, Hazel, non ora! In modo che potesse portarla all'interno del grattacielo. Altre creature erano venute con loro. Una ragazzina asiatica che le aveva messo i brividi dopo ciò che le era accaduto a Creepyland e un vecchio dall'età indefinita che si era subito chiuso in un'altra stanza. Solo ora che Blanca era stata adagiata a terra, scaldata da quel fuoco così luminoso e che Ed le si era accovacciata accanto, Hazel si era permessa di dare un'occhiata in giro e lasciare finalmente il braccio di Patty. Erano in quella che le ricordava la sala professori della sua scuola. Quattro banchi attaccati l'uno all'altro per formare un tavolo da riunioni. Sedie tutte intorno e una zona adibita a cucina, con microonde, bollitore e frigorifero. Quanto vorrei farmi un tè! In realtà sentiva il bisogno di un caffè, ma non ne aveva mai amato il sapore. Anche i suoi amici sembravano necessitare di un liquido magico per rimanere in piedi. Tuttavia, dopo aver appreso dall'uomo dei sogni prima e dall'ulteriore spiegazione di Daniel poi cosa fosse successo a Blanca, la sensazione di stanchezza era quasi svanita. Come potevano definirsi a pezzi rispetto a una ragazza che non dormiva da giorni, forse perfino settimane? Questo le fece ricordare la domanda che voleva porre da quando quello strano uomo si era presentato con Slenderman, Blanca e delle risposte. Quanto tempo è passato? L'uomo non esitò a rispondere. Per voi, diverse ore. Per lei, quattro settimane. Com'è possibile? chiese Patty in credula. Come vi ho spiegato prima, la professoressa Ripley ha fatto esperimenti su di lei. Il luogo in cui si trovavano. Ha una differente struttura a spazio-temporale, giusto? ipotizzò Daniel, guadagnandosi una silenziosa risposta affermativa. Conosci la fondazione SCP, ragazzo? Ne ho sentito parlare nelle creepypasta, perlopiù. E voi? Sia Eiser che Patty scossero la testa. Se si tratta di creepypasta e neanche Patty la conosce, siamo a cavallo. L'uomo dei sogni si schiarì la voce e prese posto al tavolo, pregandoli di fare altrettanto. Quando tutti e tre si furono seduti in modo da poter sia guardare il loro interlocutore che controllare con la coda dell'occhio ed è blanca, lui si schiarì la voce e iniziò. Non ha senso parlare dell'origine della fondazione in termini cronologici. È preferibile giungere subito al punto. La fondazione è un'organizzazione che opera da molto tempo sull'intero suolo mondiale e il cui scopo è sorvegliare e studiare le anomalie, catalogate poi in SCP, Special Containment Procedures. Creature anomale quindi? Non solo. Gli SCP possono essere umanoidi, oggetti, luoghi e perfino condizioni atmosferiche. Si tratta di anomalie di qualunque tipo. Da loro, indicò Slenderman, l'anziana e la ragazzina. A tutto questo, disegnò un cerchio con le dita. In sintesi, possiamo affermare che sia il luogo da cui siete entrati, che quello in cui vi trovate ora, e perfino il posto di cui ha il controllo la professoressa Ripley, siano SCP. Aveva senso, riflette Hazel. Bisognava solo aprire la mente. Non sapeva ancora cosa avesse dato origine alle differenti strutture spazio-temporali, come le aveva chiamate Daniel. Però, pensare che si trovassero all'interno di un'anomalia spiegava il diverso scorrere delle ore e la presenza di grattacelli nel sottosuolo. Annui, incitando l'uomo a proseguire. Lo scopo della fondazione, dunque, è studiare tali anomalie, catalogandole, appunto, in SCP. Ne esistono di diversi tipi. Safe, anomalie di cui la fondazione conosce abbastanza da saperle contenere. Euclid, SCP, che non sono stati del tutto compresi o che potrebbero avere un atteggiamento imprevedibile, e per questo la categoria contiene principalmente creature senzienti. Infine, Keter, SCP che necessitano di complesse procedure di contenimento, che sia perché se ne ignora la natura o perché considerati eccessivamente pericolosi. Esistono anche altre categorie, ma per il momento queste sono le principali. Ora vi farò qualche esempio. Si voltò verso il fuoco e l'anziana vestita di rosso, un'alta donna emaciata il cui scopo pareva soltanto quello di alimentare le fiamme per scaldare Blanca. Lei è l'ultima vestale, ed è un'anomalia catalogata come Safe. È in vita da tempo immemore. Non ha mai dimenticato la lingua della sua zona d'origine, né ha mai abbandonato il suo fuoco. Come vedete, la sua luce è più intensa di quella naturale, ma può essere alimentato soltanto dalla sua compagna. Passiamo a un SCP Euclid, indicò la ragazzina. Zena è una quattordicenne proveniente dalla Corea del Sud, che possiede una particolare caratteristica. Zena, conta i nostri ospiti! Nessun per favore, nessuna richiesta, soltanto un ordine secco con un drastico cambio di tono. Hazel provò un'improvvisa e intensa avversione nei confronti dell'uomo dei sogni, perché quella strana coreana, quasi loro coetanea, non sembrava messa bene, come se fosse stata lontana dalla luce per parecchio tempo. Uno, cominciò Zena, puntando il dito verso di lei. Due, tre, spostò lo sguardo sulle persone accanto al fuoco. Quattro e... D'un tratto un paio di rughe si fecero largo sulla sua fronte, mentre le sopracciglia si aggrottavano. Cinque, concluse Daniel. Adesso Zena fissava lui con la stessa confusione negli occhi. Cinque, sono cinque, ripete il ragazzo. Zena può obbedire a qualsiasi ordine le venga imposto, a patto di pronunciarlo come tale, spiegò l'uomo dei sogni, ma non è in grado di eseguirne nessuno fino in fondo. Non è un'anomalia, è una persona che ha bisogno di aiuto psicologico, sbottò a patti. Non è così. Vi ho fatto un esempio semplice e immediato, ma in passato le è stato ordinato di suonare un complicato spartito di violino, di tradurre un testo dal greco antico e di sollevare oltre novecento libbre. È riuscita in tutto, sebbene non completamente, eppur non conoscendo niente dell'ambito riguardante il comando ricevuto. Patti rimase a bocca aperta e Hazel ne comprese lo sgomento. Quello scricciolo era stato in grado di sollevare? Si è fermata quando i pesi erano quasi sopra la sua testa, concluse l'uomo dei sogni, come se avesse letto nei pensieri di entrambe. Ha suonato metà spartito e ha tradotto tre quarti del testo. Ma adesso passiamo ai cater. Ne abbiamo due. Che parlasse di Slenderman era ovvio, ma l'altro? È il vecchio che se n'è andato? chiese Daniel. Sì, e lo ha fatto per la vostra incolumità. Vedete? SCP-1440 odia gli umani. È un tipo di odio profondo e inspiegabile, che cresce in pochissimo tempo. È in grado di confrontarsi con uno sconosciuto per un paio di giorni, senza mostrare alcuna avversità nei suoi confronti, ma la mattina del terzo giorno proverà a ucciderlo. E considerando le sue statistiche, ci riuscirà. Hazel fu scossa da un brivido. E io che pensavo fosse Slenderman quello di cui preoccuparsi. Perché è libero? domandò distinto. È fuggito, mentre io ho permesso all'ultima vestale di uscire e Slenderman ha aiutato Zen a ciò a scappare. Ma perché? La domanda era implicita. Perché lasciare che creature per lo più pericolose girassero per il mondo? L'uomo dei sogni, indicò Blanca. Per questo motivo. Per quello che fanno loro. Credete che Zena volesse rischiare la vita sollevando 900 libre? O che a SCP-1440 vada bene fare amicizia con qualcuno per poi dover seguire l'istinto di ucciderlo? E solo perché la fondazione ha deciso che quel qualcuno fosse sacrificabile per una ricerca osservativa? Nessuno trovò opportuno replicare, finché non fu Ed a mormorare qualcosa. Blanca... Blanca non è un SCP. Ora sì. Un SCP safe, probabilmente. Ma lo è. Hazel avvertì la rabbia a scorrerele nelle vene e scattò in piedi. Che significa? Che... Che conseguenze può avere su... su... La vostra amica è viva perché ha deciso volontariamente di seguirmi. Quindi la sua mente è ancora integra. Ma è proprio di ciò che le è successo che volevo parlarvi. Non esiste più un'unica fondazione. Ne esistono molte e hanno scopi diversi. La maggior parte continua all'osservazione e il contenimento. Altre conducono esperimenti per comprendere come creare un'anomalia. La professoressa Ripley è a capo di una di esse e lo stesso la fondazione che ha organizzato Fobia Land. Erano tante, troppe informazioni da digerire, mente aperta oppure no. E anche questa volta l'uomo dei sogni parve leggere nel loro pensiero. Riprese a parlare. Mentre con la coda dell'occhio Hazel notò Ed rimettersi in piedi e cominciare a camminare lungo la stanza. Lo sguardo perso nel vuoto mentre apriva e chiudeva le ante della cucinetta per tenersi impegnato. Avete bisogno di riposare e riprendere le forze prima di proseguire. Proseguire? Tornare a casa! Parafrasò a patti. Vi preparerò qualcosa da mangiare e poi potrete finalmente... No! Era la prima volta che alzava la voce. Hazel e gli altri seguirono in suo sguardo verso Ed, che era riuscito nell'intento di trovarsi qualcosa da fare, recuperare del cibo. Era fermo davanti al terzo armadietto a sinistra del frigorifero. Con una mano teneva una scatola di biscotti con la scritta Le Choi. Con l'altra reggeva un biscotto della fortuna spezzato in due parti. Non udì l'uomo dei sogni. Era concentrato a leggere il bigliettino dentro il biscotto. Cosa c'è? Chiese Hazel agitandosi di nuovo. Gli SCP possono essere qualunque cosa, anche dei biscotti. Biscotti? Quasi le veniva da ridere. Per fortuna però Ed non lo aveva ancora mangiato. Come... come possono essere SCP? I biscotti della fortuna, di solito, predicono un futuro generico, una frase che è possibile applicare a diversi contesti. Ma i biscotti Le Choi hanno una caratteristica precisa. Sono tarati per la persona che li leggerà. Come se fossero in qualche modo senzienti? Non è chiaro. E non è chiaro soprattutto se siano in grado di prevedere il futuro o se piuttosto lo causino. Ma sono biscotti della fortuna, no? Conoscerai una persona nuova. Preparati a fare un lungo viaggio. Come potrebbero essere negativi? Il contesto, Hazel, le ricordò Patty. Viaggi, persone nuove. In questa giornata eterna non mi pare potrebbero portare buone notizie. E soprattutto non mi pare che Ed abbia appena letto qualcosa di diversamente interpretabile da una catastrofe, aggiunse Daniel. Davanti a loro, il volto di Ed era diventato di un pallore innaturale. Finalmente delle risposte. È una nuova scelta per voi da compiere. Non vi chiederemo il contenuto del biglietto di Ed. Ma che tipo di SCP siete pronti a incontrare nel prossimo episodio? Safe, Euclid o Keter? Avete tempo per votare fino a mercoledì 12 giugno.